bella bella a tutti come stai bene bene in questo momento la bimba di chris e gialla che vuole vedere questo giornale è una vita adesso spero che ci metterò che ti vuole arriviamo subito elisa ciao come aspetta no io non ti posso credere ti ha fatto una sorpresona eccolo qui ciao cristian è tutto per te non sono niente da mangiare si vengono sicuro ma che ne so ci prendiamo una pizza come state raga queste sono un po' porca miseria patatine bene te tu bene perché perché mi sono iniziato con il ragazzo che mi piaceva con trash stavo pensando al cinese di yurik e questo è di lingua ma cazzo è la tua diretta ma lì di qua non lo so mi stava parlando con te ma lì di qua ma lì di qua hai tornato capo si vedo che prendo il telefono allora tutto bene contenta felice ecco perfetto ci sta potresti chiedere una cosa che tipo tu e Gennaro e tu ci mettete in fila così almeno posso fare il screen va bene adesso te li faccio mettere posso fare la screen va bene arrivano subito certo piccola e ti infila che brutto che sono così grazie mille ok allora adesso facciamo la mia patigia non l'avevi capito allora ti amo se no se no non l'avresti capito si amo tutte le mie patigia però allora le mie patigia di più andrea schillerò è morto abbastanza con il mio Giuliani si no tra qua in due allora adesso facciamo chiederemo altri patigia va bene un bacione ciao ciao e te scusi dormi qua io va qua no non dormo qua perché? andai a giocare adesso non gioco a casa ma se ho da posto no no porca broia è vero? figa le 8-5 devo essere già là adesso e siete i matti è vero? i cantari e ti devi andare a casa spero poco sincero no scusa aspetta calcola un attimo perché magari non riesci a capire andarci io non devo andarci ok è Dio di sant'ima se non puoi male molto male si da trovare cosa stai guarda lì non ti fa non è possibile ma spessi e arrivi a casa è già pronto guarda le macchine sì sì ho capito ma da qua a casa non lo so tu sei sulla e ho prenduto la verde sei fuori? sì la rossa ciao da qua ci metti dieci minuti per arrivare io devo sapere non ciò le ho fatto neanche gara io posso il quattro dai sono minimo da un simbolo mi dica la mia mente che mi sta cazzo madonna ragazzi mi sono messa nella mente vabbè faccio gli ultimi boh boh c'è che far veloce ma io ho bisogno è falsa ah ecco c'è la fanpage qua kri chi è? è un kri? sì eccolo qui oddio ciao 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 tutto bene? eh? tutto bene? tutto tutto bene tranne che c'è scrivito un coglione sono un coglione? no dai dai finisci me però sì tutta la 20.900 20.900 dai ci sarà hai messo la nuova foto? sì ho messo anche commentato bravo è quella di Ergy? sì anche quella l'ho taggato anche 4 amiche è bravo sì ma cosa ti faccio? sono andata una coscia è brutta ok è fatta grazie ma di dove sei? regà vi voglio pronti perché domani di gusto di gusto? sì a rossizio? sì nella storia di Ergy ci sta sono in diretta se entrate velocemente domani c'è il suo video di YouTube ma che lo faccio uscire le 15? ti hai piaciuto il video? sì è bellissimo non mi esce un'altra non vi è dolore lo faccio uscire alle 15 lo segnamelo tu secondo me alle 15 ok grazie allora però fa cioè fa anche sta luce qua prende qua prende regà vi voglio attivissimi domani alle 15 9 ok salutiamo per rispettare la tua diretta come andai però forse è rimasto mettere la loro ragazzi va bene ve lo giuro vi salutiamo ciao mi spiace qui la diretta so che è stato bellissimo ci vedremo una prossima volta con la tua diretta con Chris e con Ergy e ci saranno i skill forse in diretta live ciao a tutti no that's good